musica uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video e ragazzi intanto porca di quella porca oggi sono uscite le nuovissime skin su fortnite dedicate agli anni 80 io non so se voi siete amanti di questo periodo storico personalmente ritengo sia il periodo più bello che si possa vedere negli ultimi 50 anni queste due skin ragazzi sono disponibili nello shop rarità epica con tanto di piccone e deltaplano mi raccomando ragazzi fateci un pensiero tra l'altro ragazzi prima di parlare dell'argomento principale di oggi non so se lo sapete ma sembra che il dur burger sia stato un'esclusiva solo per questo weekend quindi venerdì e sabato che sono appena trascorsi e che quindi sembrerebbe non torni più sui nostri shop sui nostri shop di fortnite staremo a vedere ma oggi ragazzi quello di cui vogliamo parlare è assolutamente cercare di capire come caspita è possibile ottenere la skin galaxy ragazzi che è una skin vi ricordo esclusiva per gli utenti che hanno fatto il preordine del samsung galaxy note 9 oppure che hanno comprato il tab s4 anche se nella guida che sto per farvi vedere il tab s4 non è assolutamente menzionato ragazzi si parla solo del samsung galaxy note 9 e allora ragazzi partiamo subito attenzione che non vedo più dove caspita è finita la mia immagine io l'avevo pubblicata prima qua ragazzi ecco qua pruota enorme enorme aspetto un momento ma perché ma perché ho fatto le cose poi non si sa perché diventano fuori così enormi passaggio numero 1 dopo aver ricevuto l'approvazione per il pacchetto per il pacchetto game o aver acquistato il pacchetto da 99 dollari riceverai un'email di approvazione quindi qua ragazzi siamo già nella pagina principale di samsung e controllando la nostra mail aspettiamo che arrivi l'email dell'approvazione per avere l'abilità della l'abilitazione alla nostra skin galaxy dal dispositivo galaxy note 9 bisogna aprire quindi dal dispositivo bisogna aprire l'email di approvazione o dell'acquisto appunto di quel pacco da 99 dollari e acquistare e andare in realtà lui dice che acquisto ma bisogna andare sull'app di samsung e cliccare su su rhythm my game bundle quindi penso che ci sia proprio una una sezione apposta dedicata a questa skin che si rivela essere la più costosa in assoluto di fortnite 999 dollari di skin accediamo ragazzi al nostro account epic games o ci registriamo se per caso non ne abbiamo uno clicchiamo consenti per consentire al negozio samsung di accedere al nostro account epic games in modo da poterci assegnare i v bucks vi ricordo ragazzi che con l'acquisto in pre order del samsung galaxy note 9 tutti riceveranno 15.000 v bucks extra ma solo i primi oltre a questo riceveranno un paio di cuffie da utilizzare appunto con lo smartphone in questione dopo aver effettuato l'accesso i tuoi 15.000 v bucks verranno assegnati al tuo account ovviamente dicono di attendere fino a un massimo di 24 ore in modo da venire accreditati correttamente puoi riscattare i tuoi v bucks per gli acquisti in game oppure utilizzarli ovunque sono accettati i bucks dove pensi che siano accettati i bucks ma cosa vuol dire ovviamente solo su fortnite dalla pagina di conferma di v bucks fare click su download fortnite quindi solo qui al passaggio numero 6 scaricheremo fortnite il gioco vero e proprio quindi apriremo il game launcher nel nostro galaxy note 9 che appunto ci condurrà direttamente al programma di installazione di fortnite apriamo l'app di fortnite quindi dopo aver fatto install apriamo sul tasto apri e giustamente ci ricordano di assicurarci di avere fatto l'accesso al nostro account samsung in modo appunto da fare l'associazione quella che vi dicevo prima in poche parole dopo che fortnite è stato installato sul nostro dispositivo accettiamo i termini le condizioni d'uso e cominceremo ad avere la possibilità di giocarci dal galaxy note 9 per riscattare la tua galaxy skin assicurati di aver effettuato l'accesso al tuo account samsung sul note 9 e quindi una volta che hai aperto il gioco bisogna semplicemente andare nello shop lì troveremo la nostra skin galaxy disponibile come acquisto a 0 dollari in poche parole è come se fosse inserita di fianco allo starter pack per dirla tutta toccheremo il tile toccheremo acquista per completare la procedura di acquisto e ovviamente non verrà addebitato nulla sul nostro account la nuova skin sarà disponibile nell'armadietto quindi ragazzi ecco come fare per ottenere la skin per chiunque abbia fatto il preorder del samsung galaxy note 9 attenzione perché parlano solo del samsung galaxy note 9 a me sembra impossibile perché si vociferava la diano anche chi prende il tablet s4 ma queste sono informazioni ufficiali prese dal sito di samsung tra l'altro ragazzi nel prossimo nella prossima patch la 5.3 finalmente ragazzi arriverà il pacchetto twitch prime quello che c'è e scusate sì il pacchetto twitch prime quindi se avete un account twitch prime associatelo assolutamente al vostro account epic games ho fatto dei video tutorial su come farlo ditemi qua nei commenti ragazzi se per caso volete che ve ne faccio un altro è un passaggio molto semplice però è bene che se abbiate un account twitch prime giocate a fortnite associate entrambe le cose e ragazzi l'avevamo già vista ieri ma viene confermata la nuova skin di twitch prime ragazzi per da che andiamo avanti di uno eccolo qua l'avevamo visto per chi non l'avesse visto ieri lo può rivedere oggi questo è il suo cappello e come vedete c'è la parte di cuffia dove si possono prendere le ordinazioni il cappello con un mitico stemma sopra che è lo stemma del durburger eccola qui ragazzi questa invece è tutta la skin completa ovviamente i colori non sono quelli originali dovremmo aspettare che venga resa pubblica per poterla vedere assolutamente con i colori corretti ma ragazzi eccola qui ragazzi il grill sergeant questa è la skin del pacchetto twitch prime ragazzi ed è molto carina ci sta soprattutto se avete anche acquistato la skin del durburger fare la combo grill sergeant durburger se non avete niente da fare andate a al durburger e cominciate grazie alla funzione replay a fare una fucilata di scenette sono convinto che facciano troppo troppo ridere beh ragazzi direi che per il video di oggi ne abbiamo veramente viste di tutti i colori io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato e mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale cerchiamo di aumentare ancora di brutto ragazzi la famiglia anche perché più cresciamo e più avete la possibilità di vincere i contest da 10 euro noi ci vediamo in live ciao